Ciao a tutti amici di Total Photoshop e bentrovati in questa nuova puntata della Tutorial TV. Io sono la Cami e come sempre vi parlo di Premiere Pro CC 2017 e sì perché è uscita una nuova release. In particolare oggi vediamo come realizzare i titoli di testa ispirati a Pulp Fiction. Vediamo subito l'esempio. Tarantino parte con un'immagine ma non interessa. Dopodiché è entrata questa scritta Pulp Fiction dal basso verso l'alto e successivamente spostandosi verso il fondo. Dopodiché i nomi degli interpreti sopra la scritta Pulp Fiction. Diciamo che lo stile di Tarantino è un po' particolare. Ad esempio in questo caso più che dei titoli di testa sembrano i titoli di coda ma qui si sono aperte un sacco di discussioni e lascio a voi la curiosità di andare a scoprire tutte le varie critiche cinematografiche in merito a questi titoli. Noi andiamo in Premiere e vediamo subito di realizzarli. Ok per prima cosa direi di partire con un titolo generico giallo magari utilizzando quello che è il nostro logo. Ad esempio noi utilizziamo il logo di Total Photoshop. Io mi ero già preparato il logo di giallo dipinto quindi per noi è questo. Sicuramente va ridimensionato quindi controllo effetti, movimento, scala e lo mettiamo leggermente spostato verso il basso. Perfetto. Dopodiché inseriamo sopra la scritta. Quindi andiamo in nuovo, titolo, Total Photoshop. lo scriviamo direttamente, Total Photoshop. Come andiamo a selezionarlo tutto e poi io mi sono fatto una ricerca online e ho scoperto che il primo fonte che utilizza Tarantino si chiama Busorama. Eccolo qua. Centro, centro per centrarlo. In realtà noi avevamo spostato il logo quindi lo alziamo leggermente. Lo rievidenzio di nuovo tutto perché vorrei andare a dargli lo stesso punto di giallo del nostro televisorino. Quindi vado qui nelle proprietà del titolo con il contagocce, riempimento, vado a selezionare il televisore e voilà il gioco è fatto. Perfetto. Chiudo, mi porto il mio titolo in timeline sopra il mio televisore ed ecco che abbiamo già il nostro primo elemento. Secondo elemento, la scritta Pulp Fiction che appare dal basso. Noi ovviamente non scriveremo mai Pulp Fiction ma scriveremo Total Photoshop. Total Photoshop 2 perché uno l'ho già creato. Ok. Per creare il nostro font stile Pulp Fiction io ho analizzato un po' questi stili di titolo già presenti all'interno di Premiere e ho visto che ad esempio Popular Puffy White poteva essere uno stile che andava bene per il mio titolo. Quindi Total Photoshop. Sicuramente aumento la dimensione così lo vediamo meglio e va meglio per il nostro scopo. Lo posiziono qui, lo allargo finché posso perché se vi ricordate la scritta Pulp Fiction arrivava da parte a parte. Ora so anche che la scritta non aveva proprio questo font. Io sono andata a cercarmelo ovviamente e ho scoperto che il font utilizzato o meglio un font molto simile a quello utilizzato da Tarantino è Aachen. Aachen. Ridimensiono un attimo il mio testo perché ora è uscito dallo schermo e questo non va bene. Lo sposto dove meglio credo. Perfetto. Ora comandà per selezionarlo tutto. Vado a cambiare quelli che sono i colori di riempimento. Quindi bianco non sarà assolutamente bianco ma sarà giallo e possibilmente lo stesso giallo che abbiamo utilizzato per il nostro logo e la nostra prima scritta. E so anche che il contorno ovvero il tratto esterno è arancione. Quindi vado a cercarmi un bel arancione. Un po' più intenso. Ecco qua. Perfetto. So anche che non è in questo stile la mia scritta Pulp Fiction nel senso che non è che è proprio un bordo. Quindi vado a scegliere un altro tipo di stile. In particolare il profondità. Lo vedete qui nel tratto esterno. Perfetto. Così può andare molto bene. Chiudo e importo il mio titolone all'interno della timeline. Perfetto. Ora io so che all'inizio il mio titolo non si deve vedere. Quindi lo seleziono. Vado nel controllo effetti in particolare in movimento. E so che all'inizio deve essere fuori dallo schermo. Quindi ridimensiono un attimo per vedere meglio. Lo sposto fuori. Perfetto. Inserisco un keyframe di posizione. Dopo un tot di tempo io so che dovrà essere al centro dello schermo. Quindi sempre selezionando un movimento lo riporto come era prima. Anzi più centrale. Perfetto. Dopodiché allungo un po' la clip perché magari non ne ho a sufficienza. So ipoteticamente che il mio titolone dovrà scomparire verso il fondo alla fine. Per questo ritorno sempre all'inizio della clip. Oltre al keyframe di posizione inserisco anche quello di scala. Cioè mi mantiene la scala in questo modo fin quando fa questo movimento. Dopodiché il mio titolo dovrà slittare verso il fondo e diminuire drasticamente la sua dimensione. Il keyframe è stato inserito. Se voglio avere maggiore sicurezza di una comparsa graduale posso dargli una proprietà appunto lineare con ingresso graduale. Facciamo una prova per vedere di non aver combinato pasticci. Ecco qua. C'è qualcosa che non va. Notate questo movimento? Sembra quasi ondulatorio. Perché? Perché probabilmente nella mia interpolazione tempo o spazio. Eccolo qui. È stato inserito una curva di basia automatica. Noi dobbiamo spostarlo su lineare. Mi raccomando controllate bene i vostri keyframe per controllare che i movimenti siano corretti. Ok. Direi che ci siamo quasi. Passo successivo. Titolo sopra titolone. Quindi inseriamo un altro titolo. Titolo nuovo. Camilla. Metterò il mio nome. Ho deciso così. Titolo. Quindi. Camilla. Di lato. Perfetto. E ho scoperto sempre durante le mie indagini su internet che il font utilizzato in questo caso è fritz quadrada. Perfetto. Ecco. Mi sono già ricordata che in realtà era tutto maiuscolo. Quindi lo riscrivo. Centro centro. Ridimensiono un attimo la scheda del titolo così riesco a vedere meglio di qui. Quindi mi ricordo che quest'altro titolo va benissimo bianco con ombra nera però. Quindi vado subito a fleggare nelle proprietà del titolo ombra. L'ombra viene inserita in maniera automatica di colore nero e per me va benissimo. Chiudo questo pannello. Inserisco il mio altro titolo Camilla. Perfetto. Mi ricordo anche che non aveva un particolare effetto di entrata e neanche di uscita. Cioè rimaneva leggermente sullo schermo e poi scompariva. Un'altra cosa che però vorrei fare per arricchire questo nostro Total Photoshop alla Tarantino è di dare quella sorta di granulosità, di sporco sullo schermo che era tipico comunque di quegli anni anche perché appunto gli stiamo dando anche un effetto un pochino vintage. Quindi vado ad inserirgli da nuovo mascherino colorato. Vanno benissimo le proporzioni che mi dice. Nero. Faccio clic su ok. Va bene anche il nome mascherino colorato. Lo inserisco nella mia timeline a copertura di tutto. Gli cambio l'opacità nel senso che lo abbasso in modo tale che le scritte sotto si vedano ma abbiano una sorta di aloni sopra. E ultima cosa gli inserisco un effetto ed in particolare l'effetto video di disturbo e granulosità. Inserisco il disturbo, aumento un po' il fattore ed eccolo percepite questo rumore, questo rumore vintage peraltro. Quindi conoscendo i font giusti, i colori e facendo qualche piccolo magheggio all'interno di Premiere siamo riusciti a creare una sigla in stile Pulp Fiction. Ma vediamocela insieme. Quindi non mi resta che consigliarvi di iscrivervi al nostro sito e di seguirci sui nostri canali social. Se avete qualche domanda non esitate a contattarci e il mio augurio per voi è una creatività sempre in movimento.